Questa è la mia madrina, Noemi Bernocchi, i miei amici. Professor Sassaroli. Piacere. Conte Mascetti. Piacere. Barrista Necchi. Molto lieto. Merozzi, sono il padrino. Venga, venga padre. Don Angelo Bernocchi. Mio fratello. Piacere. Molto lieto. Piacere. Don Angelo Bernocchi. Il reverendo Bernocchi. Ah, perdon. Terapia da Pioca, come se fosse Antani, la supercazzo, la prematurata, condominus, viscum, blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzo, lo scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Ma cosa mi avete portato? Vi siete voluti disordare. Un pensierino. Un ricordo di questo santo giorno. E sai come, in queste occasioni non si sa mai cosa regalare. E così si finisce sempre sul classico. Ecco, ti garba e bubolino. Anch'io mi son mantenuto sul classico. Uno scaldapappa, composatino e bicchierino. Senti, se non ti piacessero una troccolo. Si può cambiare. C'è uno con bambi, uno con pinocchio. Va bene, non la troccolo. L'ha ricamato la mia bambina. Ecco, ah, pardon. È per te, Melandi. E scusi, eh. Ma se questi non fanno gli spiritosi. Oggi è un giorno di lesizia. Vero. Gente allegra, c'è l'aiuto. Venga, don Angelo, che la vesto. Comunque, grazie. Abbiamo tanti bambini poveri. Le madrina cosa gli ha fatto di regalo? Un poppatoio. No, una catenina o la medaglia. Fu una cerimonia davvero commovente. Con punti piuttosto rimarchevoli. Brambaldo, rinuncia a Satana. Rinuncio. Amen. Amen. Rinuncia alle tentazioni di male e alle sue pompe. Rinuncia alle pompe. Alle pompe. Alle pompe. Rinuncia. Amen. 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 I padrino e la madrina pongano la mano sulla spalla di catechumeno. Di catechumeno. Non so cosa vuol dire. Sono io, sono io. Non lo sapevano, scusatemi. Mi pareva più catechumeno lui. Guarda. Va bene o sì? Io ti battezzo in nome di padre. Di figlio. E dello spirito santo. Amen. Amen.